Ma questo deve essere per oggi! Ciao! Guarda, no, guarda, ti devo raccontare una cosa, una bellissima notizia, dobbiamo festeggiare, questa allora io la metto qui. Eh, no, no, ma qui, non qui, non qui. Ah, ok. Ma ti la metti qui. Posso metterla qui, allora? Sì. Comunque, direi di festeggiare, tiriamo fuori il set con lo giusto, ci pensi te, no? Non ci prendo le altre cose. Quindi la possiamo vedere qui? Non qui, non qui, ma no, no. Ascolta, mi devi dire perché non posso aprire qualsiasi cosa sia questa. Scusa, questa è la mia nuova maglia, l'altro ora mi ha salvato la vita, ci metto un qualsiasi cosa che uso quotidianamente e non mi potrei stare senza di lei. Però adesso mi devi far vedere come funziona. Qualsiasi cosa ci farei anche un pensierino, eh? E tu? Che cosa ne pensi? Scriviti nei commenti. Non ci vediamo têmani meno. L'emporeAlta Imposta abbiamo già trovato in questa parte viaгли veloci ora maldita25 Questi di 보는 sicurezza sul rio, ci metto lo abono al 볼ismo e rugono, logro Vetono Fisteviti. Per ci sono un pensierino che invece la coincia è un esempio. Grazie a tutti.